Benvenuti ragazzi, sono Gilberto e sono qui oggi a presentarvi quella che è la mia reazione alla trimestrale di NIO per chi non lo sapesse vi faccio vedere il perché faccio una reazione su una compagnia di auto elettriche semplicemente perché NIO col crescere è diventata la mia più grande posizione appena investito occupava circa l'1% del mio portafoglio investimenti semplicemente perché era una scommessa successivamente però poi essendo che è cresciuta talmente tanto e io successivamente ci ho anche investito altro capitale è diventata poi la mia più grande posizione come vedete io su NIO ho avuto anche dei guadagni del 1000% infatti l'avevo presa le prime tre azioni a 3,77 poi l'avevo presa 2 a 3,14 poi 10 a 3,55 e poi come vedete le ultime le ho comprate una 18,94 e l'altra 25,94 ho deciso semplicemente di acquistarne ancora una, ne acquisterò ancora probabilmente una la prossima settimana e una a metà dicembre penso all'incirca giusto perché voglio vedere qual è l'andamento delle vendite mensili infatti solitamente compro una volta al mese un'azione dopo che ho visto le vendite mensili e ho deciso se effettivamente potevano essere buone o no detto questo però tanto so già che tutti mi chiederanno cioè tutti vedranno questo video semplicemente per sapere ha senso comprare NIO adesso o no? ve lo dirò a fine video intanto però una prima cosa che voglio farvi vedere è il pre-market io prima della trimestrale stavo guardando il pre-market perché mi interessava sapere se effettivamente ci fosse qualcuno che vendeva le proprie posizioni per prendere appunto i profitti che giustamente ci stava infatti io mi aspettavo che anche nella miglior trimestrale possibile ci sarebbe stato un crollo tra virgolette di circa il 10% dal 7 al 10% di NIO perché mi aspettavo effettivamente che le persone andassero a prendersi i profitti effettivamente questo secondo me è un grandissimo segnale di forza uno perché la trimestrale che è uscita secondo me è molto molto buona ma dopo vi dico il perché e due perché davvero io mi aspettavo che anche nella migliore delle ipotesi il titolo sarebbe diciamo un po' crollato perché dai ragazzi una serita del genere era praticamente pura follia cioè come possiamo vedere qua negli ultimi tre mesi praticamente dall'ultima trimestrale ha fatto il 254% che diciamo è un po' tantino no? quindi mi aspettavo che almeno scendesse di un 10-15% per la trimestrale effettivamente però no probabilmente la trimestrale è piaciuta talmente tanto al mercato che niente le persone hanno deciso di restarci io in primis detto questo però andiamo a capire il perché la trimestrale secondo me è buona per chi non lo sapesse se voi entrate sul sito di NIO e andate su About NIO e andate su Investor Relations trovate il pdf che è uscito ieri e ve lo potete leggere se no potete vedere qua il riassunto io però essendo che sono iscritto alla newsletter ieri sera ho ricevuto in anteprima i risultati del terzo trimestre andiamo quindi a vedere effettivamente quali sono questi risultati ve lo traduco in italiano così magari per chi non conoscesse bene l'inglese potete leggere allora vi dico secondo me ci sono un po' di aspetti da guardare il primo è adesso pur... allora faccio così ve lo metto ancora in inglese perché purtroppo la traduzione non mi piace troppo allora io la prima cosa che guarderei è il rapporto che c'è tra le vendite del terzo quarter del 2019 e le vendite del terzo quarter del 2020 vedete come sono praticamente triplicate stessa cosa è successa nel Q2 quindi Q2 su Q2 la cosa da vedere è se effettivamente nel Q4 riuscirà a triplicare le vendite è praticamente impossibile perché come vedete qua le vendite del Q4 del 2019 erano state molto 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 elevate e come vediamo erano state di 8.224 e un ipotetico triplo sarebbe di circa 24.000 veicoli cosa che è praticamente infattibile ora come ora per NIO infatti come potete vedere la guidance per il quarto trimestre è di circa allora ve lo trovo di circa 16.000 17.000 veicoli che è comunque tantissima roba ragazzi perché rappresenterebbe comunque approssimativamente un circa 100% in più di vendite rispetto al quarter del 2019 infatti 16.000 è praticamente il doppio di 8.200 ed è per questo che serve più di un 100% di vendite in più un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il risultato sui veicoli margin ovvero il margine che hanno su ogni veicolo che è veramente sbalorditivo rispetto all'ultimo trimestre pensare che in un solo trimestre sono riusciti ad aumentare il margine così tanto è veramente spettacolare infatti sono arrivati ad avere un margine del veicolo del 14,5% che non è quello che mi aspetto io io mi aspetto di più secondo te che mi pare che Tesla abbia un veicolo margin di circa il 28% se non ricordo mai adesso non vorrei dire cavolate ma nel caso scrivetemelo qua sotto un veicolo margin del 28% è il doppio rispetto a questo però dovete considerare anche che Tesla è molto più longeva rispetto a NIO e se vediamo che alza i margini di così tanto in così poco tempo io mi aspetto che secondo me nel 2021-2022 si possa avere un veicolo margin sopra il 20% però guardiamo qual è il veicolo margin dello scorso trimestre quindi il Q2 era di 9,7% quindi già un buonino margine mentre quello del terzo trimestre del 2019 è a negativo del 6,8% quindi siamo passati da un negativo del 6,8% a un positivo del 14,5% è tantissimo in solo un anno a me questa cosa qua già ha dato un grandissimo segnale su quello che può essere l'outlook per il Q4 poi altre cose importanti possiamo vedere come NIO abbia battuto le aspettative sia per quanto riguarda andiamo a prenderci su investing quello che si aspettavano gli analisti infatti se noi andiamo su financials, earnings possiamo vedere come siamo riusciti a battere sia le vendite e sia gli EPS gli EPS tra l'altro è in base di molto perché passare da un negativo di 1,23% ad un negativo di 0,98% è poi tanto ragazzi è veramente tanto e anche le vendite sinceramente mi aspettavo leggermente meglio però ragazzi stiamo parlando di vendite per 4,53 miliardi di RMB quindi diciamo che probabilmente io ho le aspettative molto molto alte però su un cavallo pazzo come NIO me le aspetto quindi sono contentissimo che abbiano battuto sia le stime di earnings per share sia delle vendite però io mi aspetto sempre di più da questo cavallone pazzo altra cosa secondo me importantissima è il gross margin che è arrivato ad essere del 12,9% nel quarto trimestre mentre era negativo l'anno scorso infatti era del 12,1% negativo mentre era dell'8,4% nel secondo quarter ovviamente positivo del 2020 questo secondo me sono i primi passi per riuscire ad avere poi in futuro circa secondo me nel 2022 ad essere in profitto e nel momento in cui NIO inizia ad essere in profitto vedremo la vera potenza perché è adesso che Tesla secondo me sta facendo vedere effettivamente il suo potenziale quindi non vedo l'ora che NIO arrivi al punto di pareggio e poi possa effettivamente mostrare il suo potenziale come vedete qua potete appunto vedere le PS che troviamo su investing infatti è il 0,98 a bilancio se ci sono le parentesi intorno vuol dire che sono dati negativi non viene messo il meno ma semplicemente vengono messe le parentesi qua c'è un repilogo vedete come le vendite dei veicoli sono aumentate di tantissimo il veicolo margin è aumentato di tantissimo il totale delle vendite è aumentato tantissimo il gross profit è aumentato tantissimo il gross margin è aumentato tantissimo le perdite dall'operatività sono diminuite quindi molto bene la perdita netta è diminuita quindi molto bene e appunto come vi dicevo la perdita per shares è diminuita ed ha anche battute le aspettative quindi ragazzi non possiamo più dire niente altra cosa importantissima per chi non lo sapesse NIO il 6 novembre ve lo trovo in italiano ha lanciato la batteria da 100 kilowatt ora che come vedete qua secondo i loro studi ha realizzato una densità di energia superiore del 37% rispetto alla batteria da 70 kilowatt e questa qua invece è la cosa la grandissima idea che hanno avuto che vi dicevo ovvero il battery as a service questo cosa vuol dire che se gli utenti scelgono di acquistare un S8, S6 e C6 che sono le macchine di punta e di NIO e si abbonano al pacco batteria da 100 kilowatt con l'innovativo modello battery as a service come vi dicevo possono acquistare il veicolo senza il pacco batteria pagando un canone mensile di RMB 1,480 milioni ed è per questo che possono effettivamente avere costi minori possono avere prezzi minori delle proprie macchine perché hanno il noleggio a parte che secondo me è da una trovata di marketing eccezionale altra cosa importantissima qua riportano il fatto che nel settembre 2020 mi ho completato appunto quella che vi dicevo che è stata secondo me una grande idea fatta anche da Tesla ovvero cedere azioni proprie per incassare liquidità infatti attualmente io si trovo con una liquidità di 3,3 miliardi che secondo me è assurda tra l'altro poi dovete considerare che Nio all'inizio all'incirca verso marzo-aprile quotava 3 dollari per azione infatti come vi dicevo io l'ho acquistata intorno a quel periodo lì e pensare già solo in un anno di vendere 101 milioni di azioni a 17 dollari per un'azienda piccola come Nio gli aveva permesso di portare liquidità per circa un miliardo e mezzo che era follia per il tempo quindi secondo me è stata una grandissima giocata quel miliardo e mezzo ovviamente si era investito ed è per questo che ha portato risultati del genere ovviamente voi a rigor di logica mi dite beh ma le azioni stanno a 45 quindi non è che è stata una gran giocata però effettivamente le azioni stanno a 45 perché hanno fatto questa giocata qua secondo me quindi è un sono causa-effetto secondo me tra l'altro questa cosa qua non l'avevo letta voglio andare ad analizzarmela meglio perché come vediamo allora c'è scritto completamente il rimborso di partecipazione in XPT da azionisti di minoranza questo ragazzino non l'avevo letto a novembre Nio attraverso la sua controllata al 100% ha completato il rimborso totale della partecipazione in XPT Kianshu Automotive Technology CEO Limited detenute da ciascuna di su azionisti di minoranza di conseguenza Nio ha riscattato un totale del 21,09% di partecipazione in XPT e ora poste indirettamente XPT fondata in maggio 2018 XPT progetta sviluppa e produce principalmente motori elettrici pacchi batteri altri componenti per i veicoli elettrici intelligenti allora ragazzi questa cosa qua non l'avevo letta voglio andare ad analizzarmi questa azienda qua perché non ne conoscevo l'esistenza quindi voglio andare a vedere un po' e dirvi poi cosa ne penso altra cosa importante andiamo a vedere quali sono i commenti del CEO e del CFO CEO è se non mi pare si chiama se non ricordo male si chiama William Lee si esatto è questo ragazzino qua abbiamo raggiunto un nuovo record di consigli trimestrali di 12.000 veicoli in considerazione della crescente domanda di mercato per i nostri prodotti competitivi siamo motivati ad elevare continuamente la capacità di produzione a livello successivo prevediamo di consigli da 16.000 a 17.000 veicoli nel prossimo quarto trimestre ragazzi teniamoci alla mente che poi andiamo a vedere se effettivamente ci sono riusciti negli ultimi mesi siamo lieti di aver lanciato il battery hazard service e il pacco batteria da 100 kW che vi dicevo prima congestione termica proprietaria e un significativo miglioramento delle prestazioni grazie alle nostre esclusive tecnologie di sostituzione della batteria e l'innovativo modello altra cosa importante che vi dicevo con il modello battery hazard service i nostri utenti possono beneficiare di prezzi di acquisti iniziali inferiori dei veicoli opzioni flessibili di aggiornamento delle batterie e una maggiore garanzia delle prestazioni della batteria altra cosa importante inoltre a seguito del rilascio del sistema operativo NIO 2.7.0 tramite aggiornamento firmware over here nell'ottobre 2020 i nostri utenti hanno potuto guidare la funzionalità navigate on pilot di NIO pilot su autostrade e città e superstrade in città in Cina andando avanti si gode allora ho cercato questa parolina qua perché voglio portarvi alla luce una cosa che non mi ha fatto impazzire infatti qua possiamo vedere other sales quindi quelle non derivanti da vehicles allora per chi non lo sapesse NIO appunto anche delle a propria a new house a tanti altri servizi oltre alla vendita di veicoli e la cosa che mi ha fatto impazzire è il fatto che siano aumentati del solo 11,3% rispetto al quarter prima ovviamente sono aumentati del 150% rispetto al quarter dell'anno prima ma è un altro discorso infatti qua c'è scritto che l'aumento è derivato dall'incremento appunto delle vendite derivanti dai caricatori da casa installati e anche da vari accessori venduti come vi dicevo prima un'altra cosa importantissima è il balance sheet cash e investimenti a breve sono arrivati a valere 3,3 miliardi di dollari ragazzi assurdo assurdo questo secondo me è un dato da tenere molto conto perché è veramente impressionante altra cosa importante è il business outlook infatti NIO si aspetta poi di come vi dicevo di vendere dei 16.500 a 17.000 veicoli rappresentando appunto un incremento del 35,2 del 39,3 rispetto al quarter precedente è del 100% rispetto a quello prima ma un'altra cosa da guardare è l'incremento delle revenues che si aspettano che dovrebbe essere di circa 6 miliardi 6 milioni di RMB che attualmente sono 4,5 quindi un incremento molto elevato infatti del 38,3 42% rispetto al quarter a questo quarter qua detto questo ragazzi io spero che questo video breve vi sia piaciuto vi invito a lasciare un bel like un commento e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao